Entro due anni e mezzo l'ospedale di Borgo San Lorenzo sarà riqualificato sul piano statico e antisismico, ristrutturato e dotato di nuovi impianti, mentre cinque anni è il tempo stimato anche per la nascita di un nuovo polo sanitario e sociale nella vicina area Tannino. È il circuito della salute del Mugello, presentato in regione, investimento di 31 milioni e 400 mila euro, molti meno è stato spiegato dei 64 che sarebbero serviti per costruire un nuovo ospedale. L'ospedale tra l'altro resterà sempre attivo e vi si interverrà con isolatori in grado di assorbire le vibrazioni dei terremoti in un'area molto sismica. La prospettiva è quella di fare rete sul territorio. Tutto questo comporterà anche una ridefinizione con i sindaci del territorio di interventi, di politiche sanitarie e territoriali da fare negli altri comuni lì intorno che riguardano appunto Marradi, Di Comano e tante aree che ci sono lì intorno in modo da costruire una rete territoriale di sostegno e di completamento degli interventi sull'ospedale. I lavori di adeguamento statico sono in fase di ultimazione, quelli di adeguamento sismico in fase di progettazione. Tra gli altri interventi ci sono nuovo parcheggio, nuovo ingresso, pronto soccorso, terapia intensiva, sale operatorie e 12 posti letto in più per le cure intermedie. Nel nuovo polo sanitario sociale adiacente poi saranno presenti servizi territoriali come medicina sportiva, consultorio e la sede della società della salute. La cosa importante è che si crea proprio un vero e proprio circuito per cui tutte le attività tra ospedale e territorio necessarie per il Mugello troveranno proprio una casa unica intorno all'ospedale. Il circuito della salute è nato da un lungo percorso di confronto tra le diverse istituzioni mugellane e offre dunque tutti i servizi alla salute richiesti dal territorio già sostenuti dai 123 posti letto di cui al momento è dotato l'ospedale. Questo è un investimento importante che solo grazie al lavoro dei territori insieme all'azienda sanitaria insieme alla regione toscana siamo riusciti a portare in fondo attraverso alcun documento abbiamo fatto sia la parte politica che la parte tecnica che è partita dall'analisi di quelli che sono i fabbisogni del presidio ospedaliero. Ora sono già allo studio altri interventi in ambito sanitario nel territorio del Mugello.